Oh ragazzi, è stato un piacere, scusate ma andiamo di fretta. Ciao ragazzi, alla prossima. Siamo sbarcati ieri sulla spiaggia, siamo senza documenti e andiamo in Francia. Stai con una canna montina, ma papà. Qualt'è non me lo mostro? Ci vuol stanno il franzo. Tu non mangiare, devi mangiare per il bambino. Vi ho spiegato che i loro documenti ce l'hanno la nostra manager. Io è regolaritata da faccia, ho chiuso una serata per domani sera. E non è una sagra, eh? Ci sono pure loro però, eh? E chi sono? Coristi. E allora voglio sentire come cantano. Senza la musica, come si? Eh sì, a cupola. La cappella, se ne è a cappella. Questa è la musica, non capisci, no cazzo. Non avevate paura? Della traversata intendo. Sì, certo. Ma se lasci tu la strada sei già morto. Perché mi hai fatto la tua strada? Guardi qui, non mi hai fatto la strada. Non mi piace la strada, non mi piace la strada. Non mi piace la strada. E noi siamo assali. E tu sei un ragno, non mi piace la strada. Ma io non mi piace la strada. Ma come? La pizzica serviva a guarire le persone morse da un grosso ragno di queste parti, che si chiama Taranto. Le vittime erano sempre giovani donne. E loro ballavano, ballavano, forti, indiavolate. Perché la musica le guariva. E le liberava. Pizzica. E loro ballavano, 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 ballavano. Perchè Teresa di musica non capisci?